Fatturato in crescita del 5% e occupazione a più 3% sono i dati positivi del bilancio 2018 di Conf Cooperative Emilia-Romagna. Accanto alla soddisfazione c'è però la preoccupazione per un quadro politico incerto che potrebbe condizionare l'economia e la crescita. Abbiamo bisogno di una politica economica chiara e interventi sulle infrastrutture, dice il presidente regionale di Conf Cooperative Francesco Milza. Sentiamo Luca Muleo. Soddisfazione e preoccupazione si fondono nel consuntivo 2018 di Conf Cooperative, soddisfazione per i numeri dell'anno passato con un giro d'affari di oltre 14 miliardi e un fatturato in crescita di quasi il 5%, così come crescono gli occupati più 3% con oltre 81 mila al lavoro. I primi segnali per il 2019 però vanno in una direzione contraria a questa crescita e il quadro politico generale a destare timore. Certamente serve una politica economica chiara perché se non si capisce dove si vuole andare è difficile intervenire, quindi il primo aspetto è certamente su alcune dinamiche di sviluppo capire quali sono gli indirizzi. In questa regione c'è il tema delle infrastrutture e soprattutto su Bologna viviamo delle difficoltà, non ce le nascondiamo, è un problema delle miglia romagna ma è un problema di dinamica nazionale, è uno sdodo nazionale. Adereremo alla manifestazione del 9 marcio, lo vogliamo dire, lo leggiamo e lo vogliamo leggere come momento di un territorio che pone un problema alla politica e che si aspetta dalla politica delle risposte. Negli anni della crisi, dal 2007 al 2018, noi abbiamo creato oltre 25 mila posti di lavoro. Quali sono i settori che trainano? Principalmente il settore agroalimentare, sull'occupazione anche, sull'occupazione in particolare traina sia l'agricolo, sia il settore lavoro e servizi che quello sociale. E diciamo che in ogni caso la cooperazione è in una condizione oggi di sapere interpretare quelli che sono i bisogni delle persone prima di tutto e quindi i bisogni del paese. Stabile il numero dei soci, flessione del 2% per il numero delle cooperative, dato dovuto però ai fenomeni di aggregazione. E' sempre interessante le nuove esperienze come quella della piattaforma Fair B&B, modo etico di viaggiare, idea nata a Bologna che a maggio partirà anche a Venezia e in alcune capitali europee come Amsterdam e Barcellona. Permette di viaggiare e allo stesso tempo di donare quello che noi tratteniamo come commissioni, la metà a progetti sociali e progetti di comunità.